Rieccoci, Primo Sinterparis, appuntamento settimanale del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, l'ospite, l'avete riconosciuto, il professor Gino Gerosa, direttore del centro di cardiochirurgia Vicenzo Gallucci dell'azienda ospedaliera di Pado. Abbiamo iniziato a parlare, io avevo una scaletta, poi l'ho saltata perché mi viene da fare delle domande proprio di una curiosità magari comune che ovviamente qualsiasi cittadino che ha problemi di cuore, insomma chiamiamolo così, vorrebbe sapere. Quanti battiti deve avere un cuore per funzionare sempre bene? Prendete se misurano, io ne ho 70, io ho 80. Beh dipende perché naturalmente è un cuore molto trainato, cioè allenato naturalmente ha una frequenza cardiaca sicuramente più rallentata, diciamo che 70 battiti al minuto è considerata la normalità. La normalità. Un attacchi cardia cosa vuol dire? L'attacchi cardia vuol dire che il nostro segnapassi, il nostro smaker interno per tutta una serie, la più semplice di tutte è semplicemente lo sforzo fisico perché naturalmente il cuore deve pompare più sangue e un meccanismo di compenso per pompare più sangue è quello di aumentare la frequenza cardiaca e quindi vuol dire che la nostra frequenza è accelerata. È accelerata. Senta, l'infarto avvisa il paziente e magari lo avvisa in maniera tale che il paziente non se ne rende conto e dà una valutazione? Purtroppo non sempre, ad esempio ci sono alcuni pazienti tipo i pazienti diabetici in cui possono avere ripetuti microinfarti senza avere una sintomatologia acrilatante che è quella del senso di oppressione, del senso di morte imminente, del senso di dolore toracico distretta al cuore che invece è riferita da gran parte dei pazienti. Ah, quindi può capitare che, anzi capita che uno può avere un infarto e non aver avuto nulla? Solitamente uno può avere un infarto senza che ci siano stati quei segni premonitori, ad esempio dell'angina, tecnicamente chiamata angina, quel dolore toracico che ci avvisa ad esempio sotto sforzo durante emozioni intense che possiamo avere un problema aterosclerotico al livello E qui i grandi atleti che sono mancati recentemente per infarti o per mancanza di battiti cardiaci nascosti dicono... Belli ci sono delle patologie misconosciute durante le visite per l'idoneità agonistica che possono essere attribuite anche a problematiche di tipo aritmico, cioè di alterazioni del sistema elettrico del nostro cuore che poi si estrisseca con la morte improvvisa. E quello con la ricerca si potrà un giorno evitare oppure conoscere anche la malattia del cuore perché tale deve essere perché... Beh certo, prima di poter attuare una terapia efficace bisogna fare una diagnosi efficace, quindi le due cose vanno di pari passo, migliorare i nostri strumenti diagnostici per poter poi intervenire in maniera coerente e corretta. Allora andiamo a vedere il servizio, la storia e i numeri della cardiochirurgia di Padova, vediamo. E con grande soddisfazione che tutto l'ospedale di Padova... Da in questo momento la notizia che nelle prime ore del 14 novembre 1985 è stato qui eseguito il primo trapianto di cuore in Italia... Sono le parole del professor Luigi Diana, l'allora sovrintendente sanitario di Padova, a dare l'annuncio del primo trapianto di cuore effettuato nel nostro paese nella notte tra il 13 e il 14 novembre 1985, una prima pagina di storia a cui ne seguiranno molte altre e che porteranno la città del Santo a rappresentare un vero e proprio punto di riferimento europeo per la cardiochirurgia. A realizzarlo fu il professor Vincenzo Gallucci, a lui è intitolato il centro di cardiochirurgia di Padova, diretto oggi dal professor Gerosa e nato pochi mesi dopo la sua drammatica morte in un incidente stradale nel gennaio 1991. Nel corso degli anni tra le sale operatorie della città del Santo sono stati iscritti diversi record. Nel 2002 il primo trapianto di cellule staminali nel cuore, nel 2007 il primo trapianto di cuore artificiale totale in Italia, nel 2018 il primo intervento con una tecnica mini-invasiva senza ricorrere all'operazione a cuore aperto. La cardiochirurgia di Padova ha eseguito quasi mille trapianti di cuore, 40 solo nel 2017, e 30 nel 2018. Ogni anno ha effetto mille operazioni grazie ad un'equip, quella del professor Gerosa, composta da quasi 200 professionisti tra medici, infermieri, tecnici e operatori sociosanitari. Ha ridotto le liste d'attesa da 9 mesi a 30 giorni, riorganizzando il sistema e allungando l'orario di attività delle sale operatorie, numeri che rendono il centro Gallucci appetibile anche per chi non vive in regione, con più del 20% dei pazienti che arrivano da fuori Veneto e si affidano alle cure del professor Gerosa. E dopo lei vuole che io non le faccia i complimenti? E come possono fare i complimenti a tutto il team? A tutto il team, quando indico lei ovviamente, indico tutto il team, indico il centro Gallucci in generale, insomma, lei è il... Siamo 1.300 interventi all'anno. Mica pochi, 1.300 interventi vuol dire media di 4 giorni. Ci hanno messo a disposizione due anni fa più seduti operatori e più letti di posti letto in terapia intensiva. Siamo riusciti a passare da 670 interventi a quasi 1.300 interventi all'anno, quindi raddoppiando il numero di interventi. Questo ci ha permesso di abbattere le liste d'attesa da un anno, perché era quasi un anno la lista d'attesa a Padova e nonostante informassimo i pazienti che avevano bisogno di un intervento al cuore e che questo intervento avrebbero dovuto sottoporsi a questo intervento nell'arco di uno o due mesi, i pazienti restavano in lista di attesa, anche devo dire a rischio della loro vita, pur di essere operati a Padova. Oggi possiamo dare una risposta che entro 30 giorni. E ovviamente c'è chi chiede il trapianto e non potrà essere mai accontentato. Il trapianto è in costante crescita il numero di pazienti con scompenso cardiaco, refrattario, terapia medica ottimale o intervento cardiochirurgico tradizionale, cioè quei pazienti che richiederebbero un trapianto di cuore. Questo perché più pazienti fortunatamente sopravvivono all'infarto miocardico, perché si è allungata anche l'attesa di vita, quindi il mixing di questi due momenti fa sì che più pazienti arrivano alla nostra osservazione con la richiesta di un trapianto di cuore. Purtroppo non è che ci siano pochi donatori, anzi in Italia è i primi posti in Europa, il Veneto è i primi posti in Italia per numero di donazioni per milioni di abitanti, però il profilo clinico del donatore si è completamente modificato. Prima citava il primo trapianto di cuore eseguito dal professor Gallucci nel 1985, pensi che l'età media del donatore di cuore all'epoca era intorno ai 18 anni, perché? Perché un ragazzo aveva uno stupido incidente motociclistico, batteva il capo sul selciato e andava incontro a morte cerebrale. Oggi fortunatamente grazie alle leggi sul casco, soprattutto per la legge sul casco, questo donatore è scomparso, fortunatamente devo dire. E quindi i donatori d'organe oggi sono pazienti che non vanno incontro a morte cerebrale per cause post-traumatiche, ma vanno incontro a morte cerebrale per emorragie o ischemie cerebrali. Quindi l'età media del donatore è passata dai 18 anni a più di 55 anni, intorno ai 60 anni. E se questo non impatta negativamente organi come il fegato, piuttosto che il polmone, piuttosto che il reno, impatta negativamente il cuore. Perché chiaramente se uno ha un'ischemia o un'emologia cerebrale può avere fattori di rischio per malattia coronarica, il diabete, pensiamo all'ipertensione. E quindi il numero di donatori, che può sempre aumentare, perché naturalmente si può sempre fare meglio, ma è che è già molto alto, non è sufficiente a coprire le necessità dei cuori necessari a rispondere ai pazienti che richiedono un trapianto di cuore. Senta, un cuore trapiantato, faccio una domanda, uno muore, può essere portato il cuore un altro cuore. Quanto può vivere un cuore tolto da un corpo e portarlo nell'altro? Allora... La durata, quanta è la durata? Allora, il trapianto di cuore è la migliore risposta terapeutica per i pazienti affetti da scompenso cardiaco terminale. La migliore risposta terapeutica in termini di sopravvivenza, tenga conto che un paziente che è listato per il trapianto di cuore, ha un'attesa di vita che è inferiore all'anno, e la sopravvivenza dopo il trapianto di cuore a 10 anni è superiore al 50%, vuol dire che più del 50% dei pazienti sottoposti al trapianto cardiaco sono ancora vivi dopo 10 anni. Quindi è molto buona per la sopravvivenza che può garantire ed è molto buona per la qualità di vita che può garantire, soprattutto nella prima decade post-trapianto. Tenga conto che dopo il trapianto più del 90% dei pazienti tornano all'attività lavorativa o all'attività di relazione. Per venire alla sua domanda, quanto può un cuore sopravvivere dopo l'espianto prima di essere nel passaggio, dipende dalla tecnica che utilizziamo per proteggerlo durante questo passaggio, dal momento in cui lo spiantiamo, lo togliamo dal donatore e lo impiantiamo nel ricevente. Prima si fermava il cuore con una soluzione cardioplegica fredda e poi veniva trasportato in un piccolo frigorifero a bassa temperatura e la finestra temporale era tra le 4 e le 6 ore in cui si doveva comunque farlo ripartire questo cuore. Oggi fortunatamente abbiamo delle macchine che vengono tecnicamente chiamate macchine per l'ex vivo perfusion, cioè per la perfusione ex vivo, per cui noi prendiamo questo cuore, lo montiamo all'interno di questa macchina che perfonde con il sangue del donatore il cuore stesso e noi possiamo quindi allungare in maniera importante le ore in cui questo cuore permane al di fuori dell'organismo prima del reimpianto. Possiamo arrivare anche a 12 ore, 10-12 ore insomma, per cui questo permette soprattutto una grossa valenza che è quella di poter studiare meglio, visto che ho detto che l'età del donatore si è alzata in maniera importante e quindi i donatori sono dei donatori che a volte noi definiamo marginali, possiamo valutare più compiutamente il cuore e vedere se è un buon cuore perché possa poi essere ripiantato. Per capirci, se il tempo che un cuore vive da un corpo a un altro è al massimo di 12 ore mi sembra aver capito? No, non è che vive, sono le condizioni in cui noi garantiamo la sopravvivenza di questo organo perché lei capisce bene che se prendo un cuore e lo spianto e lo appoggio su questo tavolo, dopo poco muoce, mentre se lo raffreddo posso mantenerlo per un certo periodo intorno inferiore alle 6 ore, se invece lo perfondo con il sangue, come se posso correre la battente, posso arrivare a 10-12 ore, perché? Perché poi subentrano, adesso non voglio entrare nei tecnicismi, però subentrano... No, no, ma certo, ma la mia domanda è molto più semplice, cioè in queste 6 ore o 12 ore vuol dire che ci sono molti cuori pronti per essere trappiantati? Eh no, perché mi dice che ci sono molti cuori pronti per essere trappiantati? E se, cioè, allora succede... È sempre necessario un donatore? È un donatore, allora succede che se ci sono, faccio un esempio, a Padova 10 persone che hanno bisogno di trappianto, voi li chiamate urgentemente per fare il trappianto perché è arrivato quel cuore in quel determinato periodo? No, il paziente, il ricevente viene chiamato prima ancora che si proceda all'espianto dell'organo. Poi però... Noi sappiamo, allora c'è una rete nazionale, poi c'è una rete interregionale che governa la distribuzione degli organi, oltre naturalmente a un coordinamento regionale che sovrintende la distribuzione degli organi, per cui noi veniamo informati che c'è un donatore con alcune caratteristiche, età, sesso, peso, gruppo sanguigno e alla luce di queste caratteristiche fisiche del gruppo sanguigno, naturalmente noi possiamo identificare un paziente che è in lista d'attesa per trappianto presso il nostro centro che potrebbe essere un potenziale ricevente che può matchare molto bene con le caratteristiche del donatore, al di là del gruppo sanguigno che è fondamentale inizialmente. Quindi io dopo aver avuto esami e io devo essere pronto per il trappianto, devo attendere che arrivi un cuore che sia idoneo per il mio... A quel punto si attiva tutta la macchina, quindi il ricevente, il potenziale ricevente viene ricoverato da noi, si attiva tutta la macchina, il team cash va a valutare direttamente le caratteristiche di quel cuore, decidere se lo ritieni idoneo e opportuno, oggi siamo facilitati nel nostro lavoro perché abbiamo questo ex vivo per Fusion Machine che ci permette poi di mettere il cuore all'interno di questa macchina che ci dirà se quel cuore è ottimale, può essere utilizzato con l'ipotesi di un buon risultato fidale e a quel punto il paziente viene avviato alla sala operatoria e comincia la procedura di espianto-trapianto. Incredibile, lei lo prende in mano il cuore quindi? Beh certo, tutte le volte che lo pericamo. No, no, le sto facendo domande perché nel ragionamento io sto immaginando già il tipo di lavoro che lei fa, cioè quanto pesa un cuore? Beh in quel caso lì quando andiamo ad espiantare un cuore che va incontro al trappianto arriviamo ai 600-700 grammi, solitamente pesa un pochino di meno. È delicato come organo? È un organo delicato o un organo forte? Beh è un muscolo per cui è un organo che si lascia manipolare abbastanza agevolmente. E poi viene inserito nel corpo dove è trappiantato e viene unito con tutte le varie vene? Si fanno quello che tecnicamente vengono definite anastomosi, cioè delle suture che permettono di riconnettere i vasi, la orta piuttosto che l'arteria polmonare, la vena cava piuttosto che l'atrio sinistro in modo tale da poter ristabilire l'integrità anatomica che era stata interrotta e spiantando il cuore ammalato. Ecco, senta, e nei bambini, nei ragazzi giovani? Lo stesso, non cambia assolutamente nulla. L'unica cosa che cambia sono le dimensioni. Tenga conto che il trappianto di cuore che ha un grosso impatto dal punto di vista emotivo è uno degli interventi più semplici in cardiochirurgia, perché sono delle anastomosi, delle suture su strutture del diametro superiore ai 2 centimetri, ai 2 centimetri e mezzo, quindi è abbastanza grossolana come chirurgia. Tenga conto che quando eseguiamo un bypass a orto coronarico, è più impegnativo. Beh, parliamo di strutture che hanno un diametro che è inferiore ai 2 millimetri, quindi naturalmente utilizziamo dei fidi di sutura molto molto più piccoli, utilizziamo degli aghi molto molto più piccoli, utilizziamo dei visori che ci permettono di ingrandire di 3 volte, 3 volte e mezzo il campo operatorio, perché naturalmente stiamo eseguendo l'anastomosi su strutture del diametro che è inferiore ai 2 millimetri. Allora, prima parlavamo di un trapianto di un cuore senza trasfusione di sangue per via del paziente che non è simbolizzata, però poco tempo fa per la prima volta è stata un'operazione a cuore battente a una settantenne. Cosa vuol dire? No, no, dobbiamo essere un pochino precisi, gli interventi a cuore battente si fanno da tantissimi anni, interventi di rivascolarizzazione miocarica, ad esempio a cuore battente, senza fermare il cuore, senza usare la circolazione estracorporea, utilizzando delle tecniche particolari, soprattutto degli stabilizzatori che ci permettono di fermare in qualche modo o di mantenere più stabile, pensi a una forchetta che si appoggia sul cuore che si contrae e mantiene più stabile quel centimetro quadrato all'interno del quale decorre l'arteria coronaria che dobbiamo aprire, sulla quale dobbiamo anastomizzare e attaccare il bypass. Quindi quelli venivano a fare di verso tempo. Oggi possiamo fare degli interventi all'interno del cuore senza fermarlo, pensiamo alle TAVI, la sostituzione delle valvole aortiche per via transcatetere, il cuore non viene fermato, si lavora all'interno del cuore e viene posizionata una valvola che sostituisce la valvola aortica ammalata, calcifica. Altri interventi, quello che faceva riferimento a lei, ad esempio che è del dicembre dell'anno scorso, se non ricordo, la notizia fu data nell'ultimo dell'anno. In quel caso, quello è un grosso successo per l'azienda ospedale di Padua perché è un grosso successo per il lavoro di team, dove non c'erano solamente i cardiochirurghi, ma ad esempio c'erano anche gli urologi del professor Zattoni, c'erano anche i chirurghi epatomigliari del professor Cillo, erano pazienti con un grosso voluminoso tumore renale, in questi casi il tumore renale invade la vena cava inferiore, in quel caso c'era un grosso trombo che aggettava fino all'interno del cuore, all'interno del lato di destra. Solitamente questi tipi di interventi vengono eseguiti usando la circolazione acrostatale corporea, aprendo lo sterno del paziente e aprendo l'atrio destro. Nel momento in cui i colleghi sfilano, rimuovono il rene e rimuovono il tumore, lo sfilano, si vanno a recuperare parti di quei trombi che altrimenti entrerebbero nel circolo polmonare, determinerebbero la morte del paziente per l'embolia polmonare massiva. Per la prima volta, questa volta per la prima volta al mondo, quindi fu un intervento, fu una prima mondiale assoluta, operavamo il paziente che era già stato operato al cuore, quindi era molto più a rischio, senza dover aprire il torace e quindi collaborazione con gli urologi, collaborazione con i chirurghi epatomigliari, quando è arrivato il nostro turno di andare ad aspirare, rimuovere il trombo che proturdeva all'interno del lato destro, abbiamo utilizzato un sistema che si chiama Angiovac, pensi a un banale aspirapolvere, noi siamo entrati dalla vena giugolare, andando dentro lì l'abbiamo aspirato. Queste novità arrivano per merito della ricerca, queste sono anche prove che fate? No, è la capacità di applicare tecnologie che sono già disponibili, e chiaramente sviluppate nella ricerca, e magari sono state sviluppate, questa tecnologia è stata sviluppata, ad esempio per l'embolia polmonare massive, si entrava dentro e si aspirava il trombo dal circolo polmonare. Applicarle ad altri interventi chirurgici, a poter disegnare una strategia chirurgica utilizzando ciò che è disponibile, quello che si chiama un pochino la fantasia, l'inventiva e il coraggio. Io della volta quando siete parlando, per quello dico che siete degli eroi, sembra una banalità, però Padova ha davvero delle eccellenze, in tanti ramia, ogni giorno in questo lavoro ne scopro sempre qualcuna di nuova, a parte il fatto che la sanità, qualcuno dice che l'hanno trasferita qua, come dicevamo prima, invece io dico che Padova e il Veneto come sanità, è una sanità eccellente. Senta, oggi c'è anche il cuore bionico, giusto? Allora, tornando ai pazienti che necessitano un trapianto di cuore, abbiamo detto che i cuori non ce ne sono a sufficienza, allora la ricerca ha cercato di sviluppare delle alternative al trapianto di cuore, queste alternative sono i VAD, che sono i sistemi di assistenza ventricolare, e il cuore artificiale totale. Qual è la differenza tra VAD e cuore artificiale totale? Il VAD è una pompa molto piccola, che viene inserita all'interno del ventricolo sinistro, e aiuta, sostituisce la funzione del ventricolo sinistro. Il cuore del paziente resta in sede. Purtroppo ci sono delle situazioni in cui non solo il ventricolo sinistro, ma entrambi i ventricoli, destro e sinistro, sono disfunzionanti, e in quel caso allora il VAD da solo non può essere sufficiente. Allora bisogna ricorrere al cuore artificiale totale, che è un vero e proprio trapianto, perché in questo caso il cuore del paziente non resta in sede, ma viene spiantato, solo che al posto di un cuore umano viene impiantato un cuore meccanico. Allora, ecco perché avevo fatto quella premessa prima dicendo che il trapianto di cuore è la miglior risposta terapeutica, perché garantisce la maggior sopravvivenza, ma la miglior qualità di vita. Perché noi pensiamo sempre alla sopravvivenza, ma giustamente i pazienti, un minuto dopo che gli abbiamo garantito la sopravvivenza, cosa ci chiedono? Ci chiedono un'adeguata qualità di vita. La sopravvivenza disgiunta da un'adeguata qualità di vita non è appetibile per nessun paziente, non ha senso, tutti quanti siamo stati pazienti, in qualche caso sappiamo bene quanto la qualità di vita sia importante al di là della sopravvivenza. E quindi l'unico cuore artificiale, totale artificiale, attualmente impiegabile, è un cuore di vecchissima generazione, perché è stato sviluppato dopo la Seconda Guerra Mondiale, negli anni 50, quello che per la prima volta è stato impiantato in Italia, a Padova, nel 2007. Sempre a Padova. Sempre a Padova. L'abbiamo impiantato appunto nel dicembre del 2007. Quel cuore ti garantisce la sopravvivenza, ma ti garantisce una pessima qualità di vita. E allora è visto solamente come, tecnicamente si dice, brige al trapianto, provvisorio come ponte al trapianto, cioè aspettando che arrivi un cuore da donatore. Ma quel cuore che, se non, quel donatore, ipotesi, non trova il cuore... Può continuare a vivere con quel cuore artificiale, tant'è che quel cuore artificiale, impiantato nel dicembre del 2007, per la prima volta in Italia a Padova, quel paziente ha vissuto per quasi 4 anni con quel cuore artificiale prima di poter arrivare al trapianto. E quello è il paziente che ha vissuto più a lungo al mondo con un cuore artificiale totale, meccanico. E come funziona il cuore artificiale? Allora, questo cuore artificiale... Con un computer, con un software... No, 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 è una cosa molto... è molto semplice, questo giustifica come mai dagli anni 50 fino ad oggi continuiamo a utilizzare quello perché è molto, come dire, efficace nel suo funzionamento, pur nella sua semplicità, ma anche nella sua semplicità, giustifica poi il fatto che sia assolutamente, come dire, affidabile. È un cuore pneumatico, quindi si immagina i due gusci di poliuretano, quindi di plastica, con all'interno una membrana di poliuretano che viene movimentata dall'area compressa. Quindi ci sono due tubicini che escono dal torace del paziente e vengono connessi al compressore e quindi la membrana di poliuretano viene movimentata dall'area compressa che viene pompata dal compressore all'interno dei gusci poliuretano. Questo soggetto ha sempre un compressore vicino? Esatto, ha sempre un piccolo compressore del peso di 7 kg che è estremamente rumoroso, ha delle batterie perché naturalmente deve essere alimentato con energia elettrica, ha delle batterie che deve sempre portarsi dietro, ma soprattutto è estremamente rumoroso. Quindi, quando dicevo prima che il trapianto di cuore garantisce un'eccellente qualità di vita, il cuore artificiale totale attualmente disponibile non garantisce sicuramente un'eccellente qualità di vita. è rumoroso, E come ha vissuto questi 4 anni sto paro Cristo? Ha vissuto aspettando che... Ma a letto oppure... No, 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 il paziente può tranquillamente anche andare in bicicletta per intenderci perché il compressore viene montato su una... Su uno zainetto. Su uno zainetto viene indossato come un qualsiasi zainetto quindi ti permette di andare in bicicletta però resta pur sempre rumoroso. Quindi il paziente ha una qualità di vita adeguata nel senso che gli è consentito spostarsi in maniera assolutamente libera. Però deve sempre portarsi dietro questo compressore e anche i VAD i sistemi di assistenza ventricolare deve portarti in cintura una piccola borsetta che contiene l'unità di controllo e le batterie però è silenzioso perché sono elettriche i VAD a differenza del cuore artificiale che è pneumatico. Sono affascinato professore e quindi dobbiamo sviluppare tornando a sua domanda il cuore bionico dobbiamo sviluppare un cuore artificiale che sia efficace nel garantire la sopravvivenza dei pazienti ma che sia estremamente efficace nel garantire un'adeguata qualità di vita. e quindi deve essere silenzioso con un'eccellente biocompatibilità se pensiamo che quando trapiantiamo un cuore dobbiamo dare i farmaci immunosoppressori al paziente perché il corpo del ricevente accetti l'organo trapiantato. Nel paziente in cui impiantiamo un cuore artificiale meccanico dobbiamo somministrare una terapia antiaggregante anticoagulante molto spinta perché dobbiamo far accettare questo cuore meccanico al corpo del paziente di cui è trapiantato quindi da una parte l'immunosopressione dall'altra parte l'anticoagulazione perché la biocompatibilità non è adeguata quindi dobbiamo sviluppare un cuore bionico che vuole essere un cuore silenzioso piccolo e eccellente dal punto di vista di biocompatibilità noi ci stiamo lavorando da diverso tempo anche in questo caso i finanziamenti giocano un ruolo importante però sicuramente arriveremo prima o dopo quanto dura un intervento un trapianto al cuore per il sorgero? intervento tecnicamente nel momento in cui arriva il cuore perché c'è tutta la parte come dire organizzativa che è sicuramente molto più lunga in un paio d'ore un trapianto viene eseguito ecco allora lo staff mi faccia un esempio siamo pronti è pronto il trapianto tutto lo staff quanti è andati in sala operatoria chi fa l'intervento mi racconti un po' in maniera pratica un team parte per andare a prelevare il cuore e quindi sono due cardiochirurghi ecco mi scusi il cuore può essere in una provincia una regione diversa può essere anche fuori dall'Italia anche fuori dall'Italia può essere anche fuori dall'Italia quindi partono costa soldi avere un cuore? no no il trapianto il programma il trapianto dall'estero non si paga gli organi non vengono assolutamente pagati no pensavo lo Stato non viene pagato non può esserci commercio d'organi no pensavo nell'intervento costa il fatto che naturalmente bisogna avere un aereo certo questo volevo dire questi costi sicuramente ci sono sono a carico del paziente in questo caso il sistema sanitario italiano è un sistema eccezionale dal mio punto di vista perché è un sistema universalistico ognuno di noi ogni cittadino italiano ha diritto alle cure anche le più sofisticate non è come in altri paesi che bisogna andare con la carta di credito assolutamente arriva questo cuore quindi partono questo team con un perfusionista se dobbiamo utilizzare anche queste macchine per la perfusione ex vivo con i due cardiochirurghi vanno a prelevare il cuore mentre in frattempo a Padova in sala operatoria il paziente entra nella sala operatoria dove c'è un altro team di cardiochirurghi che preparano il paziente per aprirlo naturalmente per metterlo in circolazione estracorporea c'è un anestesista c'è un tecnico per la perfusione per l'utilizzo della macchina cuore e polmone della circolazione estracorporea naturalmente ci sono degli infermieri strumentistici ci sono degli infermieri di sala operatoria dopodiché il chirurgo ritorna con il cuore a quel punto comincia il trapianto di cuore che viene fatto naturalmente del tuo team nel momento in cui come dire si ricongiungono nella casa madre di Padova della sala operatoria di Padova poi il paziente dopo alcune ore quando il cuore è ripartito si è svezzato il paziente cioè si è disconnesso il paziente dalla macchina per la circolazione estracorporea a quel punto l'intervento è pressoché finito il paziente viene trasferito in terapia intensiva post-operatoria dove si procederà poi all'estubazione si aspetta il risveglio del paziente e tutto quello che ne consegue e tutto quello che ne consegue senta allora lo staff a parte c'è il chirurgo che opera poi ci sono i nuovi i futuri ci sono i chirurgo che opera poi ci sono gli assistenti che sono tutti quanti parte del team di staff permanente in più poi ci sono tutti i medici in formazione perché naturalmente a Padova abbiamo ecco senta nel lavoro come il vostro un medico di formazione faccio un esempio superano dei test perché per fare quello che fate voi ci bisogna ecco lei puntualizza una cosa molto importante che è una cosa che mi ha sempre sorpreso allora se noi vogliamo andare a selezionare un autista per autobus o non sto dicendo un pilota di formula 1 o non sto dicendo un pilota di un caccia a reazione quindi macchine estremamente sofisticate ma già un autista deve superare tutta una serie di test psicotitudinali esatto che invece in ambito medico non ci sono per cui devi superare solamente dei test che sono che è il concorso nazionale di ammissione al programma di formazione però questo lavoro ci vorrebbe qualche dico io così no 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 ma lei ha perfettamente ragione perfettamente ragione devo dire che in genere chi partecipa ai test di selezione per l'ammissione alla scuola di specializzazione in cardiochirurgia sono fortemente motivati però capita è capitato anche recentemente di un aspirante cardiochirurgo che dopo un anno di frequenza nella scuola di specializzazione è successo qualche settimana fa è venuto e mi ha detto professore penso di cambiare perché non credo di superare no ma non è tanto per una questione di coraggio di accettare come dire le condizioni di stress ha detto no non mi vedo all'età di 40 50 anni giustamente bisognerebbe fare dei test per capire ma sai come in molte è come nella sua professione poi andando avanti nella sua professione si è accorto la nostra professione insomma è impegnativa però non è sicuramente come la vostra insomma la vostra beh però ci sono possono essere situazioni estremamente impegnative il corrispondente di guerra naturalmente sottoposto a condizioni di stress non è differente oggi noi abbiamo ma anche voi l'avete oggi noi abbiamo la privacy che non puoi più nemmeno fare un'intervista se guardiamo Lazzari una volta si sapeva chi donava oggi non si può sapere pensi solamente che naturalmente il ricevente e viceversa i familiari donatori non possono sapere a chi è andato all'organo che è stato donato una volta si sapeva tutto ma io non capisco perché perché secondo lei è giusto questa privacy secondo me è giustissima è giustissima ma ci sono tutta una serie per quale motivo è giusto per tutta una serie di condizioni situazioni psicologiche che possono ingenerarsi tra colui che riceve l'organo donato e la famiglia che ha donato l'organo per cui si potrebbero sviluppare dei rapporti che potrei dire dal punto di vista psicologico non sanno di senso di appartenenza non di appartenenza ma anche di debito nei confronti del psicologico però c'è anche il lato positivo è tutto vero quello che dice però c'è anche il lato beh il cuore di mio figlio vorrebbero sapere non tanto i riceventi quanto i familiari donatori vorrebbero sapere chi ha ricevuto l'organo però una cosa che mi ha molto colpito era il ventesimo anniversario del primo trapianto di cuore in una trasmissione della visita credo incontrai il papà del primo donatore di Busnelli il ragazzino di 18 anni che aveva donato il cuore per il radio l'azza i genitori avevano e devo dire che quei genitori hanno dimostrato una grandissima apertura mentale un grandissimo senso del dono perché io la ricordo così però mi ricordo sempre un incontro straordinario oggi è normale per tutti noi pensare di essere un donatore d'organo all'epoca non era così scontato che il papà in un momento così tragico come la morte la perdita del proprio giovane figlio decide di accettare di donare gli organi del proprio figlio in quel caso il cuore e mi ricordo mi colpì molto questa persona che io l'ho considerata una persona estremamente illuminata con una grandissima carica umana mi disse quando incontrai ilario razza l'era convinto di percepire qualcosa di mio figlio e invece mi accorsi che non ricordava assolutamente nulla e allora nel proseguo della discussione addiviniamo alla conclusione che forse la nostra identità non risiede nel cuore come molti di noi pensano ma forse nel nostro cervello quindi assolutamente identifichiamo una persona per quello la pubblicità poi abbiamo l'ultima parte tra poco di a parte posso la pubblicità avanti l'ultima parte olutionsale per la pubblicità